Chi usa internet li conosce molto bene, stiamo parlando dei blog che sono una sorta di diari interattivi, ormai sempre più diffusi, ma quello che vi stiamo per mostrare è davvero speciale, ce ne parla da Milano Paolo Colombo. Il blog è diventato la moda del momento in internet, si tratta di un diario personale che a differenza di quello tradizionale l'autore mette in rete a disposizione dei visitatori del suo sito. A Milano è nato Matti per il blog, uno strumento che risponde al bisogno di comunicare delle persone che devono convivere con la malattia mentale. A crearlo con la collaborazione di Telecom Progetto Italia, gli ospiti della comunità terapeutica Lighiera. Mi permette di farmi conoscere e di far conoscere questa mia esperienza che secondo me è stata fondamentale per la mia vita e questa esperienza che potrebbe essere utile anche a molte altre persone che hanno o disagi psichici o comunque disagi esistenziali e comunque sono in difficoltà nella loro vita e possono affrontare con questa esperienza una nuova prospettiva per la loro vita. Si tratta qua di sposare un fenomeno importante e interessante anche un po' di moda con un'esigenza terapeutica vera e trovare un modo di confrontarle e di utilizzare l'esperienza che va per la maggiore perché serva ai dottori e ai pazienti in un dialogo che noi ci auguriamo costruttivo. Grazie a tutti.